Buonamano, una pubblicazione che mancava nel panorama letterario abruzzese probabilmente? Noi come ben sapete, come casa editrice, abbiamo creato una vera e propria infrastrutturazione culturale sull'Abruzzo, quindi questo patrimonio delle chiese, così come gli altri beni, esistono già nella nostra libreria. Questa guida mette insieme invece 60 chiese, quindi abbiamo fatto un'operazione, l'autore che è Maria Luce Latini, che ringraziamo, ha fatto una scelta, una scelta che va per province e che va anche per ordini architettonici, quindi il lettore si troverà in mano uno strumento utile, agevole, come può essere una guida, in cui attraverso 60 chiese può scoprire la storia straordinaria dell'architettura abruzzese. Non solo delle chiese, l'Abruzzo è proprio poco conosciuto agli abruzzesi, quindi la nostra opera è un'opera importante, non solo di documentazione, ma proprio per farla emergere. Per presentare la guida abbiamo chiamato due personaggi importantissimi, innanzitutto il Francesco Sabatini, che è il presidente onorario della Crusca abruzzese di Pesco Costanzo e Francesco Di Gennaro, che è il sovrintendente. Ovviamente ci sarà con me, che modererò l'incontro, l'autrice che è Maria Luce Latini e l'amministratore delegato Giovanni Tavano. Dove è possibile trovare la pubblicazione? In tutte le librerie dove normalmente sono distribuiti libri di Carsa, da noi qui e ovviamente anche sul sito internet www.carsedizioni.it